Ciao ragazzi, stiamo andando al crossfit, all'Octoberfest, dove fai un WOD e bevi una birra se perdi. Quindi se perdi sempre, arrivi alla fine serata che sei una m... In che fanno raggino con il domenico? Non è foda, se era foda ero così. Non è vero, non è vero. 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 Non è vero. Non è vero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.